Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a trattare un argomento che di sicuro farà comodo a tantissime persone. Molto probabilmente con l'andare avanti della tecnologia a molti di voi è capitato di avere a che fare con file che superano l'alta definizione. Parliamo naturalmente del 4K e per chi ha avuto la possibilità di lavorare con macchine come Red, Alexa o ancora altre di superare i 5, i 6 o addirittura gli 8K del nuovo sensore della Red. Ma in tanti si domandano come è possibile montare, quindi fare una fase creativa del lavoro con il video che va a scatti. Perché, parliamoci chiaro, queste tipologie di video sono talmente pesanti che anche una macchina performante non riuscirà mai a metterli in play in tempo reale. E' qui che viene in soccorso quello che è l'utilizzo del file proxy. Il file proxy è un file che deve essere creato e generato dallo stesso file di partenza, quindi che abbia le stesse caratteristiche, stessa durata, uguale, soltanto con una conversione più favorevole al software di editing. Così facendo, quando si andrà a montare, si utilizzeranno questi file di proxy che sono molto più leggeri, quindi la fase creativa, quella della lettura, quella del montaggio creativo, è molto ma molto più fluida. E si può lavorare creativamente e mettere insieme tutto il video, la storia o quello che stiamo lavorando. Una volta terminata questa fase, i file di proxy vengono sostituiti con quelli originali e quindi in quel momento là non riusciremo a mettere in play il nostro lavoro, ma già abbiamo assicurato che la fase di montaggio è stata conclusa. E da là in poi si fa quello che è detto editor online, ossia andare a rifinire, a sistemare, a colorare soltanto le clip originali, dove non abbiamo bisogno di mettere in play in tempo reale, perché abbiamo già realizzato la fase di montaggio. Ma tutto questo processo, fino a poco tempo fa, andava fatto con un software esterno. Mi spiego meglio. Quando dovevamo creare un progetto in Premiere, montare ad esempio con file A4K della Red, o si utilizzano questi file qua e si lavora sui timeline con i suoi pro e i suoi contro, oppure si realizzavano dei proxy. Proxy che possono essere realizzati tranquillamente con dei software come Adobe Encoder. Si crea ad esempio un file in H.264 a bassa risoluzione, a 720 ad esempio, e si andavano a sostituire i vari file manualmente. Oppure i proxy potevano essere generati tranquillamente con DaVinci, ma insomma bastava convertire i file, tutte le clip, in file dove il peso consentisse, la codifica e il peso consentissero di essere messi in play in tempo reale. Da un paio di versioni a questa parte, anzi se non sbaglio dall'ultima versione in questa parte, Premiere mette a disposizione questa funzione di realizzazione dei proxy, che in italiano è tradotta in assimilazione, forse non è la traduzione più adeguata, ma il concetto è quello, per realizzare i proxy direttamente all'interno di Premiere, gestirli in automatico all'interno di Premiere, in una maniera davvero fantastica. Adesso vi mostro, ho messo in timeline un paio di clip girate con Red. Sono file raw che ho messo in timeline, e vediamo un pochino come è possibile abilitare questi proxy, generarli automaticamente, sia con un progetto già avviato, che creando un progetto ex novo. Queste sono le due clip che ho messo insieme. La mia workstation è abbastanza potente, come vedete in tempo reale, alla massima qualità, le clip non riescono ad andare in tempo reale. Quindi cosa dovrei fare? Cominciare nella preview ad abbassare ad un ottavo, ad un quarto, la qualità di mess in play, e già così riesco a vedere il mio materiale in tempo reale. Ma naturalmente questa non è una soluzione, semplicemente perché se comincio ad applicare dei filtri, la cosa può cominciare a peggiorare soltanto. Allora, come posso risolvere il problema? All'interno del mio progetto ho importato questi due file, che sono due file raw della Red, quindi sono file R3D. Come faccio a creare un proxy? Beh, come spiegato all'inizio, prima andava fatto tutto esternamente e ricollegati i vari file, ma adesso abbiamo la possibilità di farlo in automatico. Cosa significa? Dal nostro pannello progetto selezioniamo uno dei due file, o addirittura entrambi, clicchiamo con il tasto del suo sopra e ci comparirà la voce proxy. In questo... Da qui in poi noi possiamo selezionare la voce Crea Proxy. Cosa succede una volta? Che selezioniamo questa voce. Ci si apre un pannellino dove dobbiamo decidere il formato in cui il software realizzerà i nostri file di proxy, che sono praticamente dei file identici video a quella che noi già abbiamo. Quello che lui ci consiglia, Premiere, è di realizzarli in HD64 o in formato QuickTime. QuickTime, dato che sono su Mac, naturalmente utilizzerà un Apple ProRes, quindi per me è comodo l'Apple ProRes perché su Premiere, su Mac, viene gestito molto bene. E tendenzialmente vado a scegliere il formato del file 1280x120. Quindi lui andrà a realizzare dei file proxy con queste impostazioni qui. Ora ci dice dove vuoi che lo emetto, accanto ai file originali oppure in una cartella a sé. Io seleziono tranquillamente accanto ai file originali, do l'ok. In questo momento lui dice che sta creando i file di proxy. E dall'altro lato mi si è aperto Media Encoder e ha cominciato a codificare le varie clip. Naturalmente il processo non è molto complesso, tutto dipende da quante clip avete all'interno del progetto, se è un progetto già avviato e quindi dovrà convertirle tutte quante una per una. Terminato questo processo noi abbiamo i file di proxy. Ora, se metto di nuovo in play il mio video, diciamo in massima qualità, realmente non è cambiato nulla perché a un certo punto il computer comincia un'altra volta a scattare. Questo perché io sto ancora utilizzando i file originali della camera. Ma andiamo a vedere un attimo nella cartellina che cosa è successo. Nella cartellina del progetto dove io ho messo le mie clip, Premiere ha generato una cartella che si chiama Proxys. E all'interno abbiamo gli stessi due file soltanto in versione proxy, quindi molto più leggera, con la possibilità di essere messi in play. Ma io come faccio a richiamarle all'interno di Premiere? Beh, in una maniera molto molto semplice. Qui sotto qui abbiamo, nella toolbar del nostro monitor programma, abbiamo un più. Cliccando su questo più troveremo una funzione che è questa qui. Attiva o disattiva i proxy. Con molta semplicità la trasciniamo nella nostra toolbar e diamo l'ok. Ora, cliccando su questo pulsante, in automatico, Premiere ha switchato i file originali con i file proxy, senza far null'altro. Quindi nel momento in cui faccio play, Premiere sta mettendo in play i file proxy. E quindi io in questo momento sto vedendo i file proxy. Me ne accorgo anche dal fatto che durante il processo di conversione, Premiere ha sbagliato, tra virgolette, quello che è il rapporto di forma dei vari file. Ma quando si lavora con dei proxy semplicemente in 4K, in oltre HD, 169, tutto questo problema non accade. Anche se, se dovessimo montare dei file red tranquillamente, possiamo comunque sfruttare questa funzione, lavorando anche con un file squizzato, quindi trasformato leggermente, ma nel contempo avere un'anteprima fluidissima del nostro progetto. E una delle cose fantastiche con cui Premiere lavora quelli che sono i proxy è il fatto che se io adesso prendo ad esempio questa clip, apro il pannello Lumetri e vado a colorare la clip, quindi aggiungo contrasto, aumento le luci, aumento le ombre, aumento i basso e neri, aumento la saturazione. Insomma, ho fatto un color grading e questo color grading viene applicato naturalmente alla mia clip di proxy. Se io vado a disattivare questo pulsantino, Premiere porterà gli stessi effetti, quindi le stesse operazioni, direttamente sul file originale. Quindi in questo momento io adesso che ho disattivato questa funzione, sto guardando quelli che sono i file originali con le correzioni applicate ai proxy. Se voglio tornare di nuovo a lavorare in tempo reale, quindi voglio rivedere i proxy, mi basta ricliccare sopra e premere switcherai file in modo automatico. E questa è una funzione molto ma molto comoda perché ci permette di lavorare in tranquillità con file molto pesanti e molto grandi. Mi vengono in mente ad esempio i file in 4K della 7S2, i file in 4K della 5D Mark 4, ancora quelli della GH5 a 10 bit. Il concetto è sempre lo stesso, sono file pesanti da dover gestire e non sempre le macchine da editing sono così performanti e riescono a sopperire a questo grande carico. Quindi così facendo abbiamo visto come realizzare dei proxy partendo da un progetto dove noi già avevamo importato delle clip e avevamo montato. Ma si può fare la stessa cosa aprendo un nuovo progetto e dicendo a Premier che tutto quello che importa ne deve creare un proxy. Io adesso creo un nuovo progetto, lo chiamo proxy2 e nella stessa finestra per la creazione di un nuovo progetto abbiamo quest'altra voce, impostazione di assimilazione. Quello che vi dicevo precedentemente. Dando la spunta alla voce Assimila, lui vi darà delle opzioni. In questo caso voglio creare un proxy ogni volta che inserisco un file all'interno del mio progetto, seleziono di nuovo la mia voce in 1280x720 in ProRes e mi dice dove vuoi che io metta le clip. Qui abbiamo qualche opzione in più, possiamo scegliere come progetto quindi le metterà accanto ai file originali, usa una destinazione predefinita possiamo caricare i file direttamente sul cloud così da poterli gestire e poter montare anche quando non siamo in ufficio oppure scegliere un percorso personalizzato per i vari file. Io gli dico tranquillamente usa destinazione predefinita. Fatto ciò do l'ok e così facendo ho creato il mio progetto. Ora se io volessi importare i miei due file vi apro anche contemporaneamente Median Coder così vi mostro che cosa succede. Nel momento in cui io seleziono i miei due file e li trascino all'interno di Premiere lui li importerà e in automatico comincerà già la conversione dei file proxy. Così facendo quando avrà terminato la sua conversione e noi cominceremo a montare in automatico possiamo switchare tra i file originali e i file di proxy. Terminata la conversione io torno al mio bel Premiere nel frattempo Adobe Median Coder sta lavorando sotto io prendo la mia clip e mi creo la mia timeline e in questo momento dato che io già avevo il tool goal attivato dei proxy sto vedendo il file proxy. Ma se io vado a disattivarlo di nuovo vedrò il file originale. Naturalmente mi andrà leggermente a scatti come voleva si dimostrare ma se lo riattivo passo alla modalità proxy e così facendo posso montare in tranquillità in tempo reale anche file che superano l'HD, il 4K, il 5K, il 6K, il 8K e un domani il 16K. Arriviamo alle conclusioni. Questo è un sistema ottimo e performante per poter montare ed editare progetti complessi girati con camere che fanno dei file molto pesanti. Questo processo aiuta tantissimo gli editor che non hanno computer performanti o chi di voi sta cominciando vorrebbe montare dei file a 4K ma non ha il computer adatto per poterlo fare. In questo modo qui ci mettiamo in condizione di poter lavorare qualsiasi tipologia di clip in tempo reale e metterci la nostra creatività nei progetti. Insomma se avete trovato interessante questo tutorial potete lasciarmi un like e condividere questo video con gli amici che possono avere bisogno di capire come funzionano i proxy. Se avete qualche dubbio potete scrivermelo qui nei commenti e io vi risponderò e vi consiglio di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblico. Insomma cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.